Eccoci di nuovo qui, benvenute e benvenute cari ascoltatrici e cari ascoltatori. In questo nuovo podcast parleremo di un personaggio molto particolare, un personaggio che ha dato vita a quelle che sono oggi delle pratiche sessuali molto diffuse, ancora diciamo c'è molto pregiudizio in merito, però diciamo che questa persona di cui andremo a parlare è stato proprio il capo stile. Quindi andiamo ad approfondire l'argomento, partiamo subito. Vi chiedo soltanto scusa per la mia pronuncia del francese, non so parlare in francese, quindi mi perdonerete se ogni nome verrà stroppiato, storpiato. Allora, chi è questa persona? Questa persona non è altro che Donatien Alphonse François de Sade, meglio noto come il marchese de Sade, mi dice niente, de Sade, sadismo. Non concludo, lo vedremo dopo. Oppure nominato anche il divino de Sade, addirittura il divino. Nacque nel 1740 a Parigi, quindi tenete bene a mente l'epoca, quasi la metà del 1700, da una famiglia dell'aristocrazia francese provenzale. Sembrerebbe che lo scrittore più controverso della storia e della letteratura francese non fosse altro che un ragazzo molto bello, biondo, occhi azzurri, con un aspetto così angelico che andava a contrastare con quella sua aura torbida, lasciva, aveva questa reputazione proprio terrificante, perché, come vedremo più in là, aveva qualche pezzetto, diciamo così. Il marchese de Sade, che potrei chiamare anche a volte François o Alphonse, ma vi dico subito che lo chiamerò o marchese o marchese de Sade o de Sade, era il figlio del conte de Sade, che ogni volta che il suo figlio combinava qualche cosa, lui era sempre pronto ad aiutarlo, era sempre pronto a tirarlo fuori dai guai. Dovete pensare che il marchese de Sade ha passato ben 27 anni di vita in prigione, non continuativi ovviamente, però ha passato questi 27 anni tra un'incarcerazione e l'altra a causa della sua condotta, che, per quanto distrutta a voi che fosse, in realtà non meritava una punizione così pesante, anche se poi vedremo più in là, perché, come ripeto, siamo comunque intorno al 1700, e quindi, diciamo che alcune cose, alcune pratiche all'epoca erano viste veramente come quasi una cosa demoniaca, una cosa per carità. Perché venne incarcerato? Come dicevo, perché, appunto, chi era al potere, quindi chi deteneva il potere e doveva tenere al sicuro la popolazione, voleva fare sfoggio di tutto il rigore morale, quindi che doveva punire assolutamente le persone che non andavano molto d'accordo con, appunto, questi valori morali, chiamiamoli così, chiamiamoli valori morali, e sinceramente de Sade se ne fregava altamente, perdonate il francesismo, battutaccia, va bene, scusate, se ne fregava altamente, lui faceva tutto quanto quasi alla luce del sole, e una cosa molto, molto importante, curiosa più che altro, è che lui proprio da dietro le sbarri, da quando veniva incarcerato, si sentiva come una sorta di vulcano in esuzione, quindi aveva questa energia che lui usava per scrivere, quindi prendeva il suo bell'inchiostro simpatico e si scriveva le sue varie storie, che poi vedremo qui e là, perché l'inchiostro simpatico? Perché appunto doveva girare la censura, quindi, diciamo, stiamo parlando di un personaggio, chiamiamolo molto colorito, molto sicuro di sé, e molto sicuro di ciò che lui voleva fare, perché ricordiamo il periodo storico, anche se c'era chi voleva avere un determinato tipo di esperienza, non tutti erano in grado di averla, magari c'era anche chi aveva paura, appunto, delle conseguenze, ed evitava proprio di attuarli, e quindi viveva, come sappiamo bene, e nei nostri giorni viveva nell'insoddisfazione. Ma vediamo un po' la vita di Desad. Allora, c'è da dire che lui è cresciuto con un suo zio, che gli ha dato un'educazione molto eclettica, anche perché lo zio era lo storico di Petrarca, e addirittura questo zio, non si sa se sia una bugia o meno, amava raccoltare che era un discendente diretto di Laura, l'amata del poeta Petrarca. Verità? Bugia? Non si sa, visto che all'epoca comunque non c'erano social, non c'erano magari documentazioni tali da poterlo definire, quindi prendiamo questa cosa così, come se fosse un racconto che uno zio fa al nipote. Desad, dopo aver partecipato alla guerra dei Sette Anni, nel 1763, fatevi voi i calcoli, io se non gli scalcoli non li posso fare, si sposò con una ragazza della piccola nobiltà parigina. Però, anche qui dobbiamo dire una cosa, che dopo pochi mesi al matrimonio si è fatto imprigionare, e per la prima volta, quindi, capito, lui si sposa e poi si fa imprigionare a causa dei comportamenti oltraggiosi tenuti in una casa chiusa. Allora, non è scandaloso il fatto che fosse sposato e andasse in una casa chiusa. Molti lo facevano, in realtà molti lo fanno anche oggi, non esistono le case chiuse, esistono i nightclub, esistono le prostitute, però, all'epoca, essendo una cosa veramente da vergogna, lo facevano di nascosto. Ma Desad, come vi ho detto, non gliene fregava niente di questo, e quindi lui era così. Però venne liberato, quasi immediatamente, perché, appunto, come dicevamo prima, c'era il padre che lo aiutava a venire fuori dai problemi. Una volta morto il padre, nei vari successivi, diciamo così, suoi affari, che lo coinvolsero e che quindi lo imprigionarono ogni volta, non fu così fortunato. Anzi, dall'altro lato, appunto, ripeto, dopo la morte del padre, si ritrovò con la suocera che in realtà, invece di aiutarlo, o meglio, lo aiutava, lo aiutava a rimanere in carcere, quindi tentava di prolungargli la punizione il più possibile. D'altronde, vi ripeto, De Sade c'aveva un pezzetto, lui si dilettava a rapire le giovani fanciulle, le richiudeva in casa e ne disponeva a suo piacimento. Quindi, come ad esempio, c'è il famoso caso delle quattro prostitute, perdonate per la pronuncia, della Rue d'Obagne a Marsiglia e fu uno dei casi più famosi. Addirittura, De Sade e il Valletto che si portava dietro furono condannati a morte per avvelenamento. Questo perché avevano avvelenato delle ragazze per renderle più docili, tra virgolette, quindi per approfittarle in modo molto più facile. Però, riuscirono a fuggire e arrivarono in Italia. Così, tanto per gradire. Poi, però, il Marchese, comunque, finì per essere imprigionato a Parigi, dove la rivoluzione lo colse fra le mura della Bastiglia. E, sentite questa storia, a me ha fatto abbastanza ridere, non lo so perché. pare che il 14 luglio, appunto, arringasse la folla, cioè fomentava la folla con un truppo di scarico e lo usava come megafono. Cioè, era veramente un personaggio molto assurdo, veramente, non ho parole. Quindi, abbiamo un De Sade che era anche un rivoluzionario. voi immaginatevi che nel 1790 fu scarcerato e si impegnò a diventare un rivoluzionario per poi essere di nuovo incarcerato durante il periodo del terrore con l'accusa di moderatismo. insomma, si vede che le carceri lo ispiravano abbastanza, come dire, lo ispiravano molto, infatti poi lo vedremo. Comunque, diciamo che uno dei suoi ultimi crimini fu quello di rapire, di rapire, scusate, di avere un'avventura, chiamiamola così, con una ragazzina appena sedicenne e da lì poi lui fu incarcerato in un manicomio criminale e nel 1814 morì pieno dei debili, malato. Una cosa molto curiosa è che nel testamento lui aveva detto che dopo la morte non nessuno avrebbe dovuto fargli un'autopsia e soprattutto dovevano lasciare crescere le piante selvatiche sulla sua tomba perché lui non voleva essere riconosciuta, la sua tomba doveva essere cancellata. Ora, abbiamo visto un po' la vita di Desad che è stata molto movimentata ma vogliamo parlare delle opere? Allora, ciò che lui che scandalizza di Desad è l'aver messo al centro di ogni sua opera la sessualità. La racconta in modo esplicito in tutte le sue varianti e quando dico in tutte le sue varianti in tutto in tutto anche non lo so ve lo svelo adesso? No, non ve lo svelo adesso continuiamo ad andare avanti. La cosa bella è che lui l'accostava accostava la sessualità accostava le sue opere a un qualcosa che in realtà sarebbe vista così lontano dalla sessualità e quanto altro. La filosofia. Lui accostava le sue opere e nelle sue opere accostava sessualità e filosofia. Io ve l'ho raccontato e ve lo sto raccontando in modo un po' più allegrotto perché poi è il mio è il mio stile però andare ad analizzare le opere di Desade è abbastanza come dire interessante e andando oltre quello che lui dice si può apprendere molto si capisce molto e io le consiglio poi vedremo quali sono. Vi dico solo che su una delle sue opere Pierpaolo Pasolini ci ha realizzato un film la sua diciamo le sue opere sono molto incentrate ad esempio nel ripetere ossessivamente di rituali di atti sessuali che però lui alternava appunto a queste disertazioni filosofiche quindi però lo faceva in modo ossessivo il suo essere così interessato alla sessualità e comunque era talmente tanto forte che poi lo spinsero alla perversione poi oltretutto stiamo parlando di un'epoca dove vige il puritanesimo quindi comunque una condotta morale alta invece lui nei suoi scritti fa l'esatto opposto cioè lui confessa tutto quanto esalta quello che all'epoca veniva considerato il male e diciamoci la verità attualmente non è che siamo molto lontani cioè nel senso non siamo più puritani come l'epoca molte persone stanno venendo anche fuori da da questo pregiudizio ma soprattutto qui in Italia dove comunque la religione cristiana è molto sentita perché comunque a Roma c'è il Papa e quindi influenza molto anche a livello inconscio le persone il pensiero di molti diciamo che non ci riscostiamo tanto poi certo comunque i tempi moderni sono quelli che sono c'è internet c'è quanto altro c'è più possibilità di incontrare persone simili a noi e Desad dice una cosa che secondo lui è proprio nella natura umana che è violenta e crudele e non è come diceva Jean-Jacques Rousseau che è buona innocente e docile quindi addirittura Desad si mette a confronto anche con altri autori con altri che che devo dire che vi devo dire pedagogisti filosofi e quanto altro lui vedeva la natura umana come crudele e violenta ovviamente noi prima di avere il nostro bel cervello pensante come vivevamo vivevamo grazie al cervelletto che ci ci dava comunque gli input necessari per la sopravvivenza tra cui mangiare bere dormire ok quindi tutto quello che fa un animale non perché i animali non sono intelligenti ma questo è un discorso lungo lo sappiamo però quando comunque l'uomo ha iniziato a sviluppare il cervello poi sono uscite fuori tante altre cose però prima con solo quello che era il cervelletto quello che oggi noi abbiamo il cervelletto la parte più antica di noi guidava appunto la nostra sopravvivenza e l'uomo era come un animale doveva sopravvivere vivere mangiare e tanto altro comunque non non facciamo troppe digressioni su questo perché ci vorrebbe veramente un sacco di tempo c'è un'opera una delle tante opere in realtà ne nominerò 4 o 5 non lo so dipende da come da quello che più mi ispira perché sto fremendo perché voglio arrivare proprio all'opera che più è conosciuta di De Sade e che più secondo me è quella che fa uscire veramente la sua la sua carica ecco diciamo così allora una delle opere che vi voglio segnalare non lo posso pronunciare in francese perché veramente è impossibile per me comunque Justine o le disavventure della virtù contate che su questo romanzo lui ci ha lavorato per ben tre volte nel 1787 1791 e 1797 proprio non era proprio soddisfatto insomma doveva comunque rimetterci mano era un perfezionista comunque che cosa racconta questo quest'opera Juliette e Justine sono due sorelle che sono rimaste orfane vengono cacciate dal convento dove vivevano Juliette è quella immorale che decide di arricchirsi e di diventare una grandama le sue vicende le sue vicende saranno raccontate in in parallelo a quelle che sono le avventure della sorella Justine che era quella virtuosa ma quella che sarà condannata anche a vivere nella miseria quindi lui mette diciamo l'immorale che riesce ad avere una vita di un certo tipo perché comunque senza farsi troppi problemi invece l'altra vivrà nella miseria che comunque Justine sarà continuamente insidiata da vari da vari soggetti e da sei vizie e abusi sessuali ed è così che la sua virtù però non riesce a salvarla perde la sua la sua virtù e quindi in questo in questo romanzo vediamo proprio come è il vizio che vince sulla virtù e un po' è il pensiero di Desad è proprio quello che Desad ti vuole dire ovvero che la natura umana è quella ovvero che il vizio è un qualcosa di carnale che tu senti dentro e che dai sfogo certo nei suoi scritti come abbiamo già detto lui scrive proprio tutto scrive di violenze sessuali di pratiche veramente molto aggressive lui era davvero adesso si direbbe un malato no diciamo quello è malato era veramente ossessionato dalle varie pratiche e più erano forti più erano aggressive e più lui godeva sostanzialmente poi abbiamo un altro un altro libro che si chiama La filosofia del Boudoir è stato lanciato nel 1700 lanciato pubblicato nel 1795 e qui invece è una sorta di dialogo filosofico cioè è molto vedete come nel primo quello che vi ha nominato lei nomina la violenza sessuale gode nel far vincere il vizio alla virtù e qui invece diventa molto più filosofico e questo è nato perché in un salotto quindi appunto nel Boudoir De Sade riceve un'iniziazione fisica e intellettuale un po' come accadeva nell'antica Grecia quindi da parte di due uomini e una donna che i quali possedevano questa donna con ogni pratica con ogni pratica che esistente e se non esisteva la inventavano comunque avvenne di tutto e questa fu un po' l'educazione tra virgolette che De Sade appunto incanala e poi la la butta sotto forma di di scritto ed arriviamo qui all'opera principe secondo me che vi fa capire perché De Sade ha dato il via a un movimento il libro si chiama le 120 giornate di Sodoma la scuola del libertinaggio avete capito bene De Sade è colui che ha dato via De Sade sadismo a tutte quelle pratiche appunto sadiche che tutt'oggi portiamo e magari adesso si fa più attenzione al fatto che una persona accetti di fare queste pratiche magari una persona che si sottopone a pratiche di sadismo no? all'epoca non era così all'epoca si prendeva la la persona la donna come oggetto addirittura si dice che De Sade fosse un misogino invece altri sostenitori pensano che De Sade abbia voluto mettere in risalto la forza e la potenza delle donne che erano in grado di superare determinate se vizie perché sostanzialmente in alcune situazioni si parla proprio di se vizie quindi stiamo parlando di un di un personaggio che con tutta l'aggressività del mondo possedeva queste donne le possedeva con qualunque cosa ci faticceva qualunque cosa fruste frustini legate anche a volte per giorni quindi era una persona dedita alla violenza e per lui era più era violento più godeva più stava bene e voi mi direte sì ok ma perché poi soprattutto nel periodo in cui diciamo in un periodo storico in cui le donne comunque stanno facendo le lotte contro le violenze e tu ci vieni a parlare di questo personaggio esaltandolo allora io non esalto il personaggio di Desad esalto perché comunque secondo me qualsiasi tipo di rapporto che sia da un semplice bacio anche sulla guancia fino a veri rapporti chiamiamoli così di tutta la sfera BDSM che sia il bondage che sia il sadismo che sia qualunque cosa deve avere il consenso all'epoca purtroppo sappiamo bene che non era così perché la donna comunque non aveva molta voce in capitolo e quindi diciamo che la situazione è diversa io quello che voglio in realtà volevo fare era semplicemente parlarvi da cosa effettivamente è nato il sadismo che poi ci siano stati altri autori che hanno portato avanti questa mission di The Sad voi contate che The Sad è stato letto da altri autori ma autori tipo Voltaire Flaubert Baudelaire da poi vi ripeto Pierpaolo Pasolini ci ha scritto già sì ci ha scritto una scenografia noi dobbiamo pensare cioè quello che voglio farvi capire è che all'epoca questi scritti avevano come tematiche centrali l'ateismo l'approccio materialista e l'erotismo che se noi vogliamo andare a vedere all'epoca ci furono anche ad esempio Montesquieu Viderot Voltaire che scrissero opere lascive però non furono così diciamo così aggressivi come Loera abbiamo di Desad oltretutto i 120 giornate di Sodoma se non erro sì non era non era completo era è completa solo la prima parte voi contate che quel testo è scritto così minuziosamente che comunque per leggerlo non è non è leggero comunque dovete prendervi il vostro tempo ci sono tanti libri così che sono reali e realistici soprattutto per magari a me può dare fastidio un argomento non scusate non sopportare il la violenza sessuale nelle donne determinati tipi di per scusate io arrivo a un certo punto il mio fiato ancora non sono guarita del tutto quindi il mio fiato manca quindi colpi di tosse perché mi manca il fiato e quindi magari non a tutti certe pratiche piace leggerle vede magari danno fastidio anche per un proprio vissuto però The Sad va letto soprattutto se chi come me ad esempio fa un certo tipo di lavoro e sta a contatto con un certo tipo di persone io ho uno shop di benessere sessuale e sono a contatto con molte persone dell'ambiente BDSM penso che anche farsi una cultura personale leggendo libri ascoltando le persone che ci sono da molto più tempo di te e quindi senza fare la presuntuosa serve perché non c'è mai non si impara mai abbastanza quindi devi apprendere 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 e questo in generale è un consiglio certo non prendete alla lettera quello che fa The Sad perché ovviamente non è il caso però comunque per chi si vuole approcciare anche a livello letterario secondo me è un buon punto di partenza ovviamente dovete avere anche un certo tipo di criterio cioè nel senso bisogna saper scernere le varie cose vi ripeto qui stiamo parlando in un'epoca in cui non c'era diritto per le donne non c'era rispetto per le donne ok già facciamo fatica ai tempi nostri quindi insomma diciamo che l'argomento è abbastanza vasto e non è il caso di prenderlo adesso anche perché credo di aver superato la mezz'ora di chiacchiere quindi questo è quanto ho dato una spolverata di nozioni sul Marchese dei Sad e vi auguro una buona giornata spero che passiate una buona buona festività per chi crede e per chi non crede tanto anche chi non crede alla fine festeggia sempre Pasquetta e e niente ci risentiamo al prossimo podcast ciao ciao e mi raccomando fate i bravi e non fate come il Marchese dei Sad che se vi venga a prendere vi tiro le orecchie a a a a